Regola numero uno, prendere i soldi dalle tasche del tuo cliente e metterli nelle tue. 22 milioni di dollari in tre ore! Dal premio Oscar Martin Scorsese. Questo è il paese delle opportunità. Leonardo DiCaprio. La nostra è la più grande società del mondo! Stavo diventando una leggenda. Ma ecco il punto. Tutto questo era legale? Hai appena tentato di corrompere un agente federale. Questa è casa mia! Ma qui non me ne vado! Il mondo di Wall Street al cinema.